Roma nel 1826 è una città di pazzi. Tutti saltano per prendere la luna ma nessuno ci arriva. Nonostante ciò continuano a saltare. Roma nel 1826 è una città di maschere. Tutti hanno due identità e proteggono quella segreta mettendo qualcosa sulla faccia, nascondendola dietro la porta di casa mimetizzandola nel buio della notte. Quindi le notti sono piene di sorprese e quello il momento preferito da Mercurio Loi esce per le strade e si mette a cercare. Lungo il fiume dietro i vicoli sopra i tetti inseguendo la luna in una città di pazzi.